Ecco, questo è il suo posto di lavoro Prego Sa comodi Adesso attiviamo Che colore è questo? Rosso Bravo E questo? Verde Bravo, molto bravo Allora adesso sentirà un cicalino Sì Al primo suono di cicalino Accende queste luce rosse Al secondo suono di cicalino Accende questa verda Al terzo suono Spegne tutto Questo è il suo lavoro Tutto qui Semplice? Semplice, sì Grazie La sua soddisfazione è il nostro miglior premio